Una giovane italiana è morta in Francia in un drammatico incidente, secondo quanto ricostruito nella giornata di sabato 13 agosto, la vittima Carlotta Grippal, di 26 anni, si trovava a Brianson, stava passeggiando in compagnia di amici nel centro storico della cittadina francese, quando una serranda si è staccata dal secondo piano di un edificio, colpendola. La giovane è stata subito soccorsa dai sanitari ma purtroppo è deceduta in ambulanza, la procura di GAP ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La giovane era laureata in economia e commercio all'Università di Torino con un master in marketing e digital management, era appassionata di montagne nel 2019, aveva superato l'esame per iscriversi all'albo regionale dei maestri di sci. Secondo quanto emerso finora, la serranda si sarebbe staccata da una finestra al secondo piano di una via del centro della cittadina, precipitando al suolo e colpendo la ragazza.